Cari bambini di tutto il mondo, anche quest'anno, che è un anno, lo so, particolare, voglio portarvi, come ormai da tantissimi anni, bellissimi regali e insieme ai regali il mio saluto e il mio incondizionato grazie. Sì, perché Babbo Natale è l'amico, è quello che regala a tutti i bambini sorrisi e sguardi. È il Babbo Natale della famiglia, della vita, della semplicità. Ecco, anche quest'anno Babbo Natale, forse anche solo in video, ditele ai vostri genitori, può parlare con ognuno di voi, può parlare con Michele, con Marco, con Giovanni, con Francesco e con Maria, con Sofia, con Teresa. Insomma, Babbo Natale vorrebbe darvi un saluto, oltre che portarvi i regali e un augurio che il prossimo anno sia davvero migliore e che, poi voi lo sapete, regala più bello il sorriso e l'abbraccio della mamma. Ecco, questo vi posso garantire che bisogna continuare a giocare, a ridere, a essere liberi come i bambini. Sì, perché i bambini, anche quelli bilichini, sono il simbolo della semplicità, del gioco e della libertà. Cari bambini di tutto il mondo, sì, ho proprio voglia di abbracciarvi. In un abbraccio generale che quest'anno arriverà per video, ma che è sempre grande, immenso, come l'abbraccio che solo Babbo Natale vi può fare.